Salve popolo di internet, il mio nome è Cosmocomic, 2k iniziali 1c finale Ed oggi siamo qui per un nuovo episodio di Digimon World Siamo qui con Derek e Agumon e Filler, Agumon, soprannominato Filler E ci avventuriamo per questa magica avventura all'interno di Sono Senza Oggetti All'interno di Digimon World, un mondo dove praticamente sono Senza Oggetti Allora sto facendo questo esperimento Sì abbiamo capito Oh accidenti Oh Dicevo stavo sperimentando qualcosa di più particolare Sto registrando di sera Sto registrando in un orario serale Perché volevo sperimentare qualche cosa Perché voglio fare iniziare nel frattempo anche una nuova serie Che dovrebbe avvenire presto Non ho niente a che vedere con l'indovinello Che ahimè non è stato ancora risolto Però Amo Però Però Penso che Presto accadrà qualcosa del tipo che Insomma Perà Cioè Probabilmente qualcuno l'avrà già risolto Perché Questo episodio Andrà in un C'è un bel po' di tempo Fagli male Dai Dai L'hai cannato Ma dai Avevi l'occasione per attaccarlo Quella Era la tua occasione Vai Oh Ci vuole che io glielo dica E' stanco Oh Finalmente Ok Fatto La vossa Oh Floppy Rack Ne avevamo Ne avevamo bisogno Ne avevamo veramente bisogno E hai fame? Aspetta Aspetta Che te lo do? Ti do Questo Meno male che lui mangia una Una bisteccona alla volta Gabumon A quanto ho visto Da quello che faceva Praticamente Se ne mangiava due robe Due robe Invece che una sola No aspetta Devo andare alla fattoria di carne Praticamente mi da Che probabilmente mi da Altri tre pezzi di carne Essenziali Per la Per la mia avventura Altrimenti Non possiamo andare da nessuna parte Praticamente Diciamo Non può rimanere A stecco Senza mangiare niente Namo 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 Forza Allora Nel frattempo Che ci siamo Poi andrò Naturalmente Verso La palestra E farò aumentare Credo di un po' Che Di un altro po' Di intelligenza Ecco la carne Per oggi Ho della carne Te ne darò Di più domani Ho Quattro pezzi Di carne Vabbè Mi bastano Spero Vabbè Devi andare al bagno Se ci devi andare adesso Se me lo Ci devi andare E faccio adesso Perché Dopo Dopo Non lo Non facciamo Niente Iniziamo Dai Prendiamo il tentativo Bonus Ok Uno Due Potevamo farcela Potevamo farcela Vediamo Forza Corsa Corsa aumenti tu Vigilità Piede massimi Più tardi Forse E qui Ah si Una cascata Questo Cascata Spiega Potere Difensivo Interessante Però Non è quello Che c'è Non vado A nessuna parte Qui Aumentiamo Nel tuo po' Di intelligenza Niente Tentativo Bonus Questa volta Ok Ti lascio Fare un po' Io Vado A Pish 2 punti di intelligenza ok ora è necessario sono passate effettivamente un paio di ore credo sia logico finito bene restiamo un altro po' nella palestra e poi e poi vediamo questo spostamento massi ecco credo che farò aumentare la potenza d'attacco non vorrà mica morire contro cioè non far morire il mio dittimo contro un insetto un'altra volta spiega j spiega j ok e pe 80 buono buono e due solo di potenza offensiva e ovviamente ha fame diamogliela dai mangia 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 adesso e che adesso adesso andiamo andiamo avanti andiamo avanti e facciamo roba a caso no forza attacciamolo certo i caricamenti sono un pochetto lunghetti colpiscilo ok vabbè ci siamo ok credo sia il momento per un per uscire un troppi rec anche se penso ok va bene ne servivo ce n'era di bisogno ce n'era di bisogno attaccalo che devi aspettare di attaccarlo presto finirà anche la sua energia dovremo i suoi pie dovremo sicuramente trovargli qualcosa si un altro punto di intelligenza un altro punto per un bel po' di roba andiamo 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 avanti un altro dice fungo oh è una fortuna cominciamo ad essere a secco di questo di questo se continuiamo a richiedere carne così a muzzo la ceroba tecnologica è tutto un mondo tecnologico in effetti un mondo digitale ingresso del tunnel drill vediamo c'è roba oh cutscene tunnel ok tunnel così cioè dovevi interrompermi il gioco solamente per dirmi tunnel mazza oh che rumori ci sono qua oh un virus credo che voglio starmi alla larga da te vero a ah no sei un gobulimon sei gobulimon devi essere un outsider ovviamente iniziamo un'altra battaglia ovvio io mi ascomando la dieta colpescilo fallo secco yeah no 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 non ti trarai il tuo osso contro di me se solo lasciasse però qualche oggetto forse ci sarebbe veramente utile colpiscilo colpiscilo continua a colpire si deve lasciare qualche oggetto dai adesso che è stannato cioè adesso è che è un pochetto stordito oh si è difeso potenza difensiva ci sai fare ok ah final final com'era quadrato era quadrato no era quadrato mezzica fermi tutti fermi tutti non c'è oh oh si 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 respiro di pip respiro di pepe oh oh non so che devo fare non so che devo fare non so che devo fare oh vabbè non mi importa non importa la sconfito può essere l'importante credo che tornerò indietro non lascia niente non droppa nulla siamo a secco di tutta di tanta roba siamo a secco di tanta roba vabbè non potremmo portarlo a portare avanti per tanto tempo filler se continua se le cose continueranno a scherzeggiare ti alloggio un po' perché sei riuscito a fare un ottimo lavoro però però adesso è necessario che ti riprendi un po' di forza e quindi forse torneremo da punimon già è un è un continuo su e giù un continuo viaggio su e giù per cercare di mantenere vivo il nostro digimon e cercare di evitare scontri contro gente che con cui non vogliamo niente avere niente a fare grazie ci è mancato poco vediamo vediamo ah ecco come stanno le cose mozza ho già solo 5 pm forse appunti no no è proprio stanco deve deve riposarsi lo facciamo riposare una bella voletta là dentro a casa di a casa di gizimon con punimon riposa ok allora sta andando avanti da un bel po' di tempo e si devi andare a fare la cacca e devi anche mangiare prima magna no prima fai la cacca ok va bene va bene ti do da mangiare ti do un digifongo giusto perché andremo andiamo avanti per un altro po' e poi credo che staccheremo intanto si sta facendo l'ora del tramonto quindi penso che arriverà il momento di chiudere presto l'episodio andiamo giusto per questa volta altro digifongo ci serve grazie continuiamo per la foresta natale questa volta vediamo di fare le cose per bene mi sembrava una gente oh c'è qualcos'altro là che dite lo affronto aspetta come sto con i digimon non è molto però però è molto stanco credo si torniamo qua tanto chi ci può attaccare di notte mentre dormiamo salviamo e dormiamo sì sì credo che per questa parte sia tutto ok quindi per questa parte per questo episodio è tutto arrivederci povero di internet ci si vede si spera ad un prossimo video tunnel bella